Sono state trovate tracce di amianto e piombo alla discarica al Vermione a Tenno. Lo comunica la nota redatta dal Nucleo Operativo Specialistico Forestale inviata al Comune di Tenno a seguito degli accertamenti sui prelevamenti avvenuti il 30 marzo scorso. Per questo motivo gli stessi agenti avevano messo sotto sequestro una parte della discarica tennese. Le operazioni di campionamento effettuate dal Nucleo Speciale del Corpo Forestale della provincia riguardavano due conferimenti di rifiuti trasportati in discarica da due diverse ditte. Tra i diversi prelievi effettuati uno è risultato essere rifiuto pericoloso a causa delle concentrazioni di piombo che vi sono state trovate all'interno. Nello stesso cumulo inoltre le analisi dell'APPA hanno rilevato la presenza di fibre di amianto, entrambe forme che possono avere conseguenze sull'organismo umano ed essere cancerogene. I risultati confermano quindi la decisione di porre sotto sequestro una specifica area della discarica per procedere con controlli più approfonditi. Le analisi rileveranno le reali condizioni del rifiuto presente nel sito di scarico posto sotto sequestro. Nell'attesa di questi ultimi risultati il primo cittadino di Tenno, Gianluca Frizzi, che è il firmatario dell'autorizzazione volturata, è stato nominato custode giudiziario dell'area posta sotto sequestro.